Il video è scioccante. Si vede un uomo inseguire le due vittime insultandole di continuo e minacciandole di morte. Quello che state vedendo è successo nel pomeriggio di mercoli di 7 giugno a Pavia. Luca e Nicolas passano di fronte a un bar in zona stazione e vengono aggrediti per fortuna solo a parole da uno dei clienti. L'uomo li ha poi inseguiti anche correndo continuando a vomitare insulti omofobi e minacce di morte. Luca ha pubblicato tutto sul suo profilo Instagram. Nessuno dei presenti interviene per fermare l'uomo ma la situazione fortunatamente si conclude senza che si arrivi a uno scontro fisico. Dopo l'aggressione i due ragazzi hanno sport o denuncia, visto che il soggetto è facilmente identificabile, non dovrebbe essere difficile per le forze dell'ordine risalire alla sua identità. L'episodio tra l'altro è avvenuto pochi giorni dopo il Pavia Pride, il corteo per i diritti e sempre Luca ha voluto lanciare un messaggio dal suo profilo. Sinceramente sono molto stufo di avere questa comunque costante ansia di semplicemente uscire in giro a fare una passeggiata e avere paura di essere attaccato o insultato per essere me stesso. Quindi viva il Pride Month, continuiamo a celebrare l'essere noi stessi perché dobbiamo sentirci liberi di esserlo.